La giunta preseduta dal sindaco Clemente Mastella ha dato il via libera alla bilancio di previsione 2024-2026. È stato, spiega l'assessore Maria Carmela Serluca, illustrando il provvedimento, anzitutto fondamentale, aver riapprovato il previsionale entro il termine del 31 dicembre. Ciò consentirà all'intera macchina comunale di poter evitare l'esercizio provvisorio, garantendo così a tutti i settori una capacità di spesa, gestione e programmazione più tempestiva, agile ed efficace. Ciò anche in considerazione delle scadenze improrogabili del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qui è dedicata una specifica sezione. Infatti l'organizzazione del lavoro del prossimo triennio richiederà un'attività straordinaria, definita dai tempi dell'avanzamento procedurale, tecnico e contabile degli interventi dell'Next Generation European Union. Raggiungere l'obiettivo della tempistica ordinaria e avere l'occhè dell'esecutivo al bilancio a inizio dicembre era un input preciso del sindaco Mastella, che abbiamo centrato grazie all'impegno del dirigente Ambrosio e di tutto il settore, che ringrazio. In un quadro di generale contrazione della capacità di spesa, in parte e corrente, l'amministrazione ha attivato un piano straordinario di investimenti per il periodo 2024-2026. Incidente stradale nel Fortore, infatti per cause in corso di accertamento a Basilice, si sono scontrati un SUV ed un'auto. Nel violento impatto sono rimaste ferite due donne, una madre ed una figlia, che viaggiavano all'interno del SUV. Sul posto i sanitari che hanno trasportato la madre in codice rosso all'ospedale Sampio e i carabinieri per le indagini del caso. Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Benevento, nell'ambito dei controlli di Polizia Ambientale, hanno sequestrato una superficie adibita abusivamente a discarica di rifiuti. In particolare i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato un'area di circa 20.000 m2, costituita da un fabbricato industriale di cemento non ultimato circondato da terreno incolto, sito in un comune della provincia di Benevento, all'interno del quale sono stati ammassati diversi rifiuti nello specifico computer, televisori, pneumatici, frigoriferi, mobili dismessi, vari pannelli ed ancora residui di combustione, tubi di plastica, pannelli di amianto e materiale elettrico. Inoltre nell'area adibita a deposito incontrollato di rifiuti a cielo aperto risultano presenti anche cinque vasche dalla significativa profondità e larghezza di cui una compresenza di acqua sul fondo prive di qualsiasi forma di messa in sicurezza essendo tra l'altro tutte senza copertura, tutta l'area da ritenersi pericolosa per l'incolumità di persone ed animali che entrassero nell'area posta sotto sequestro. Abbiamo raccolto le testimonianze di una fetta importante della città che si vanta orgogliosamente della sua vocazione culturale e della sua storia, un patrimonio che deve essere tutelato e valorizzato, così l'assessore all'urbanistica molli chiuso lo commentando, il terzo incontro organizzato a Palazzo Paolo V in vista della redazione del PUC, il piano urbanistico comunale. Abbiamo ascoltato gli operatori culturali e l'università, ha aggiunto, che saranno protagonisti della redazione del nuovo piano urbanistico comunale, così come tutti gli attori che hanno partecipato sinora ai nostri incontri e li hanno arricchiti con osservazioni, richieste e proposte. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di disegnare uno strumento urbanistico condiviso e modellato alle esigenze di una città che ha bisogno di rinnovarsi per afferrare le sfide del futuro. Per quanto riguarda la città culturale, ha concluso l'assessore, dovremmo tenere ben presente il patrimonio materiale di materiale storico-artistico che abbiamo a disposizione, così come dell'eventuale ed auspicato riconoscimento unesco per la via Appia Regina Viarum, un elemento quest'ultimo che comporterebbe una revisione della Buffer Zone. L'aggiunta regionale della Campania ha destinato 70 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2021-2027 per la realizzazione del programma strategico di interventi finalizzato a ramaio sulla rete ordinaria con i comuni interessati del terzo e quarto lotto dall'alta velocità alta capacità Napoli-Bari, ad annunciarlo è Fernando Enrico, delegato del presidente De Luca per la tratta sannita Napoli-Bari. Ancora una volta, continuo Enrico, ringrazio la presidente De Luca e della presidente della Commissione Trasporti Cascone per il grande lavoro che stanno svolgendo a difesa dei nostri territori, anche per quanto riguarda i fondi destinati ai ristori. Un grazie ai sindaci dei comuni sanniti attraversati dall'alta velocità capacità per il lavoro di squadra portato avanti fino ad oggi e a rete ferroviarie italiane per il lavoro che stanno portando avanti sia sui cantieri sia su quelli propedeudici. Come tradizione vuole, l'ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebene Fratelli di Benevento ha organizzato la tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie natalizie e della benedizione del presepe. Nonostante le difficoltà quotidiane per imprese e famiglie tra il caro bollette e l'inflazione che portano alla contrazione dei consumi in vista del santo Natale, i Fatebene Fratelli hanno illuminato la facciata principale della struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli. Lo scopo è quello di solennizzare la nascita di Gesù Bambino insieme all'intera comunità ospedaliere del Rione Ferrovia nel segno della pace e dell'amore. TV7 ha seguito l'emozionante momento dell'accensione delle luminarie avvenuto dopo il saluto alla cittadinanza e la preghiera dei fedeli che ha visto protagonisti il superiore del Fatebene Fratelli di Benevento fra Lorenzo Gamos e Monsignor Pompilio Cristino responsabile della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, entrambi intervistati da Alfredo Salzano. Questa ormai è una tradizione ogni anno per la comunità ospedaliera e la comunità parrocchiale. È un cammino insieme per mostrare in città che Gesù è la vera luce del mondo. Nonostante la difficoltà economica e energica che abbiamo questo anno cerchiamo di avere questa tradizione che promuove anche il segno della pace e comunione con la città di Benevento. Ecco, questo è il messaggio dei Fatebene Fratelli con il superiore, con Monsignor Pompilio Cristino che invece è l'anima qui al Rione Ferrovia, diceva poco fa è bello vedere di giorno i pastori, le casette, tutti gli elementi caratterizzanti, il presepe, poi di notte la suggestiva luce quella che stiamo vedendo in questo momento. Infatti credo che il messaggio deve essere proprio questo, un messaggio di luce perché abbiamo bisogno di questa luce per camminare sulla strada del vero bene e sulla strada della pace. Troppo buio c'è nel mondo e allora Natale deve essere accendiamo la luce, quella luce vera che dalla grotta di Betelemme deve diffondersi nel mondo intero. Pace, mai più la guerra ma sempre impegnati ad essere artigiani di pace come dice Papa Francesco. Dopo un anno di assenza è stato riacceso il grande albero di Natale allestito in piazza 4 novembre dal comune di Benevento che completa così le decorazioni già presenti lungo corso Garibaldi che accompagneranno il programma artistico Incanto di Natale 2023, un albero tecnologico con musiche e colore realizzato da Concert Music di Walter del Basso inaugurato alla presenza del vice sindaco di Benevento Francesco De Pierro, degli assessori Serluca e K e di alcuni consiglieri comunali in rappresentanza del sindaco Mastella. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano al vice sindaco Francesco De Pierro. Quest'anno siamo partiti con un po' di anticipo con la rassegna Incanto di Natale, il primo dicembre abbiamo avuto una partecipazione bellissima dei bambini, delle famiglie. Oggi accendiamo l'albero di Natale, il famoso albero di Natale parlato. Questo è un albero di Natale che è di proprietà comunale. Abbiamo investito consapevolmente per far sì che quest'albero di Natale tornasse ad essere ridonato alla città perché tranne l'anno scorso che c'è stato il bullus di peso per rispetto anche del caro Prezzi, quest'anno a grande richiesta è tornato l'albero di Natale. Abbiamo ricevuto lettere dei bambini più piccoli, degli adolescenti, delle famiglie che ci chiedevano a gran voce di nuovo l'albero di Natale. L'albero di Natale è il simbolo del Natale per colori, per la musica perché rappresenta il Santo Natale. L'augurio che oggi facciamo come amministrazione con l'inizio delle feste, domani è la giornata dell'Immacolata, è quello di poter augurare a tutte le famiglie beneventane tanta pace, tanta serenità, tanta salute, tanta gioia. Possono sembrare auguri scontati ma in una routine quotidiana che viviamo ogni giorno non sempre si riescono ad apprezzare questi valori e quindi che il Santo Natale possa in questo senso rallentare un po' di più tutto e farci più apprezzare il senso e il significato della vita, raccogliendoci tra i nostri cari, tra le famiglie. Questo è l'augurio che l'amministrazione comunale rivolge a tutta la sua comunità. Il presidente della comunità montana del Fortore, Zaccaria Spine, e il presidente del Consiglio Generale, Giacomo Falcone, in merito alla nota diramata sull'apertura di una nuova sede decentrata di rappresentanza dell'ente montano, hanno ritenuto opportuno fare una doverosa precisazione. Come già avuto modo di spiegare nel comunicato, chiariscono Spine e Falcone, la sede legale e operativa della comunità montana del Fortore era resterà a tutti gli effetti quella sita a San Bartolomeo in Galdo, peraltro all'interno di una struttura bellissima, un ammanufatto storico e di grande pregio artistico. A Paduli sarà organizzato una sorta di sportello decentrato che va ad aggiungersi e non a sostituirsi e con lo scopo di rendere più capillare la presenza dell'ente ed aumentare la visibilità dello stesso sul territorio. La scuola e l'arma dei carabinieri hanno un obiettivo comune, quello di educare i ragazzi alla legalità, rendendoli pienamente consapevoli dei loro diritti e doveri in armonia con gli altri, per sviluppare i propri interessi in una società giusta, priva di prevaricazioni e violenze. Per il conseguimento di tale risultato è in atto da diversi anni il progetto La Cultura della Legalità, che prevede una serie di conferenze tenute dai carabinieri presso gli istituti scolastici per infondere nei giovani di oggi quel bagaglio culturale e comportamentale idoneo a formare i cittadini del futuro. Nell'ambito di questo progetto a Telese Terme, presso l'Istituto Comprensivo, si è svolto il primo di questi incontri che ha visto la partecipazione degli alunni della quinta classe della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, in presenza dei loro docenti con i carabinieri della Compagnia di Cerrito Sannita. Le classi quarta e quinta dell'Iceo Scientifico del Plesso di Morcone e dell'Istituto Don Peppino Diana hanno accolto nell'aula magna dell'Istituto e la Presidente della Camera Penale di Benevento, l'Avvocato Simona Barbone e colleghi Avvocato Domenico Cristofaro e Avvocato Giuseppe Nardone, dando il via al primo incontro del progetto Scuola, un percorso sulla legalità attraverso i principi costituzionali, nato da un protocollo d'intesa sottoscritto dall'Unione Camere Penali Italiane, il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il progetto è diretto a promuovere l'educazione alla legalità rispetto delle regole, con particolare riferimento ai principi costituzionali afferenti al processo penale ed ha come obiettivo quello di fornire agli studenti un'adeguata informazione sul mondo della giustizia, inserendosi pertinentemente nell'ottica trasversale dell'insegnamento e dell'educazione civica. Alex, tu hai già deciso cosa regalare per Natale? Sono ancora un po' indeciso. Ciao ragazzi! Ciao Sara! Di che parlate? Dei regali di Natale. Tu quest'anno cosa regalerai ai nonni chizi? Pantopole, bagno e schiuma dopo barba? No, ma sono quasi troppo banali. Io regalerò la serenità. Cioè? Dei voucher dell'ASDIM, che sono dei buoni per delle visite specialistiche. Quindi anche noi regaleremo serenità. Ottima idea! Il Benevento Calcio comunica che fino alle 19.15 del 10 dicembre saranno disponibili esclusivamente nelle ricevitorie autorizzate Ticket One italiani validi per la partita Benevento Avellino in programma il giorno 10 dicembre alle 18.30. È tutto con questa notizia. Vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash. Oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.